Oh, salve a tutti ragazzi e ragazze, quello che è, il mio nome è Capitan Jack Sparrow, sono un membro degli ADM, forse avrete sentito dire che anche quest'anno, come tutti gli anni, prendiamo l'ombrellone a Riva Azzurra e facciamo una gran festa. Perciò se avete voglia di annoiarvi, di farvi un'estate pallosa, di quelle che non lasciano il segno, beh io serve da dire una cosa, e cioè, non prendetevi, no 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 no, ma se invece siete tipi che non si vogliono annoiare, eh? No, voi non vi volete niente, allora prendetelo, lo prendete e vedrete che costa poco, perché sono pochi soldi e state bene a sentire, beach, musica, bella gente, io direi che è un buon compromesso, 15 euro, come tutti gli anni, sai? Non ti puoi sbagliare, perché io faccio solo cose giuste e mi piace andare all'ombrellone a prendere un mojito, mojito, un mojito all'ombrellone, un mojito all'ombrellone, un mojito all'ombrellone, un mojito all'ombrellone mi andrebbe adesso, perciò prenderò un mojito adesso, ciao a tutti! Grazie a tutti!